Io sono Enrico Giraudi, italiano, vivo a Milano e lavoro in un'agenzia di pubblicità, un'agenzia creativa e sono papà di Federico, un bimbo meraviglioso di quattro anni e mezzo. Il BBF è una sorta di venire a casa, ogni volta, non vengo a gli eventi ogni anno, ma ogni volta che vengo a un evento, mi sento davvero a casa, in termini di incontrarsi con persone che sono molto simili, con me, quindi noi abbiamo i nostri sogni. La cosa interessante è che tutti gli altri e gli altri hanno permesso di dormire e di shareare questi sogni, e questo è una cosa che non trovi sempre in una vita di vita di vita, in una routine o a lavoro. E' anche per me è una sorta di inspirazione. Quindi, ogni volta che vengo, sono chiesto per alcuni idee, per altri altri, e per alcuni, 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 per alcuni. Quindi è un paese molto spazio, non è molto caldo, è molto caldo, è molto caldo, e si senti a piacere a sensazione, anche per ciò che gli altri, per aiutare, per alcuni, per alcuni, per Quindi quando finisci a un meeting così, pensi che il tuo sogno è davvero fisico, che puoi farlo. Questo è un tipo di confidenza. La vita è learned to accept yourself fully. I think it's so important to really be able to love yourself, just to be in a very lovely contact with other people as well, and also to have the courage to make your choices in spite of what society asks you. So feel very free to follow really what are your internal needs linked to the needs of other people. So this is important. I think authenticity, that's it. And my hope is to change my way of living, being more in contact with nature, living with less money, having more time to dedicate to things that really matters to me. So my hope is really to maybe reduce the cost of my life to spend more time to meaningful things, I would say. Thank you. Thank you. Thank you.